signori fame chimica film italo svizzero del 2004 carino molto carino fatto con un bassissimo gadget gadget scusate però molto bello molto molto bello se ci metteranno qualche soldo in più gli davo anche 8.2 invece un 7.9 perché alcune cose le hanno dovute tirare un attimino per i capelli però è fatto bene mi è piaciuto lo trovate anche in chiaro su amazon prime su prime video insomma e basta così un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale se volete lasciato un like ciao ciao